Nei pazienti affetti di emofilia A in trattamento con il fattore ottavo, la formazione dei cosiddetti inibitori rappresenta una complicanza molto grave. Noi ci facciamo spiegare di che cosa si tratta e come gestire questa problematica con la professoressa Flora Peivandi dell'Università di Milano che abbiamo incontrato proprio oggi qui a Milano dove è stata annunciata la disponibilità di un nuovo farmaco per il trattamento dell'emofilia A. Professoressa Peivandi, che cosa sono gli inibitori del fattore ottavo? Gli inibitori del fattore ottavo della coagulazione in realtà sono la formazione dei anticorpi neutralizzanti contro il fattore ottavo. Significa la produzione delle immunoglobuline contro una proteina che il bambino non riconosce e quindi questo rende la terapia nel futuro per questi bambini molto più difficile. Perché si formano questi anticorpi? Questi anticorpi si formano come dicevo appunto perché il bambino in realtà con la mutazione genica del fattore ottavo non produce il fattore ottavo. Allora non avendo il fattore ottavo qualunque diciamo introduzione di questa proteina per lui come un nemico. Allora ci sono dei fattori genetici e ambientali che hanno un ruolo importante. Il genetico è appunto il tipo della mutazione genica. Se la mutazione genica completamente abolisce la produzione del fattore ottavo questo bambino è a un rischio maggiore. E poi ci sono altri fattori come tipo del prodotto che viene utilizzato nelle prime 20 esposizioni al fattore ottavo. Per esempio il lavoro di Sipet nel passato ha dimostrato che i prodotti più puri sono, più purificati sono, ovviamente sono più sicuri ma hanno più carattere di essere riconosciuti come nemici nelle prime 20 esposizioni come un non-sense e quindi aumentano il rischio dello sviluppo dell'inibitore. Ecco perché la formazione di questi inibitori rappresenta un grosso problema? Allora la formazione di questi anticorpi effettivamente è uno dei punti più importanti per quanto riguarda trattamento del paziente emofilici perché è la complicazione più difficile per clinici perché in realtà cosa succede? Quando l'anticorpo viene prodotto il bambino non risponde più all'infusione del fattore ottavo e quindi a questo punto se quantità di questo anticorpo è elevato non si può più utilizzare il fattore ottavo e fino adesso bisognava utilizzare i prodotti bypassanti che in realtà significa non abbiamo più possibilità di curare il bambino con fattore ottavo o con fattore nono ma dobbiamo bypassare la cascata della coagulazione e attivare la generazione della trombina con diversi altri strumenti terapeutici che erano nel passato in realtà o lo sono ancora adesso a secondo della scelta del paziente che è stato fattore settimo attivato o complesso però trombinico attivato. Come viene gestito il problema degli inibitori oggi? Come viene trattata questa complicanza? Allora la gestione del paziente viene fatta a diversi step. La prima cosa è prevenzione come tutte le patologie quindi i clinici devono cercare di capire quale bambino è predisposto se c'è una storia familiare, tipo di mutazione e tipo di trattamento che devono fare intensità del trattamento quindi tutto questo potrebbe aiutare a ridurre il rischio dello sviluppo dell'inibitore. Poi c'è un altro punto importante che nel momento in cui lo sviluppo dell'inibitore avviene allora bisognerebbe capire come gestire evento emorragico acuto come dicevo con prodotti bypassanti nel passato e con prodotti nuovi nel futuro e effettivamente cercare di anche eradicare questi anticorpi e toglierli proprio che si chiama immunotolleranza. Sono metodi di infusione frequenti in modo diciamo continuo da poter immuno eradicare dal presenza dell'anticorpo antifattore ottavo. Ecco oggi è stata annunciata la disponibilità in Italia di un nuovo farmaco per il trattamento dell'emofilia che si chiama imicizumab. Perché l'avvento di questo nuovo agente rappresenta un passo avanti per quanto riguarda proprio questo problema degli inibitori? Perché questa è la prima volta in realtà che dopo anni abbiamo un prodotto diverso, un prodotto nuovo, un prodotto che non richiede né infusione del fattore ottavo, non richiede né infusione dei bypassanti. In realtà è un prodotto che mima il fattore ottavo e siccome ha due braccia da una parte attacca il fattore 9 attivato, dall'altra parte il fattore 10 e appunto nel paziente emofilico senza o con inibitore tutti e due fattori che ho citato ci sono e quindi può essere utilizzato in tutti e due gruppi sia nei bambini con o senza inibitore ma in questo momento l'autorizzazione per i bambini con inibitore e quindi le novità sono diverse, il meccanismo di azione come vi dicevo e il modo di infusione e la somministrazione che viene fatto in modo sottocutaneo una volta alla settimana oppure una volta ogni due settimane a differenza di altri prodotti che venivano infusi più frequentemente e poi chiaramente diciamo una cinetica diversa, una cinetica costante con una quantità della generazione della torombina che costantemente è presente a livello della circolazione e questo è un elemento che ovviamente ha bisogno di essere capito nel futuro sia nel termine per quanto riguarda efficacia sia per quanto riguarda la sicurezza e ecco perché è importante nel futuro avere anche la tracciabilità di tutti i pazienti e capire chi sono, come sono stati trattati e come è stato il risultato con l'utilizzo di questo nuovo farmaco in termini della sicurezza, in termini dell'efficacia. Ecco quindi per finire che consigli può dare per la gestione di questo farmaco? Allora credo che sia fondamentale a questo punto due cose, uno avere un registro nazionale dove in realtà abbiamo la tracciabilità su tutti i pazienti che sono trattati e capire se il farmaco ha dato qualunque problema dal punto di vista effetto collaterale perché nel passato abbiamo avuto 20 trombotici tipo microangiopatici e l'altra cosa che credo sia importante è avere i centri che siano attrezzati per quanto riguarda i laboratori anche per quanto riguarda il trattamento clinico. Senza queste due sarebbe veramente non intelligente secondo me utilizzare il farmaco.